I personaggi di questa canzone ve li hanno inventati gli autori se c'è attinenza con delle persone scusate gentili signor qui si parla di un Natale che una sera baciare si fè da una guardia forestale il cui nome è Delossi Giosuè voi non la conoscete agli occhi belli è Eulalia Torricelli da Forlì voi non la conoscete a tre castelli è Eulalia Torricelli da Forlì un castello per mangiare un castello per dormire un castello per amare per amare Delossi Giosuè voi non la conoscete agli occhi belli è Eulalia Torricelli da Forlì seconda parte secondo programma Eulalia riposo non ha dice a Delossi ma parliamone a mamma ma l'altro rispose farà poi la cosa si ingarbuglia si ingarbuglia e sapete perché con il treno che va in Puglia è partito Delossi Giosuè vuole morire Eulalia Torricelli fa testamento e lascia i tre castelli a chi non ha castelli come me un castello a Tassinari un castello a Bergamini ma il castello il più bello a Marco Dazzi lo dà voi non la conoscete agli occhi belli e Eulalia Torricelli da Forlì storia è un grande onore un castello a novella un castello, ma il castello il più bello a Claudio Villa lo dà, voi non la conoscete agli occhi belli, chi è un'alia torricelli da fornì?